Al giorno d'oggi la gente conosce il prezzo di tutto e il valore di niente. Queste parole sono state scritte nel 1890 da Oscar Wilde nel suo romanzo Il ritratto di Dorian Gray. Questa contrapposizione fra prezzi e valori è un elemento centrale per molti ragionamenti che noi economisti oggi facciamo. E' un ragionamento che ci serve anche come spunto, ad esempio, per ripensare l'economia magari giocando sui colori. L'economia tradizionale normalmente viene chiamata brown economy, economia marron, certe volte anche grigia, ma preferirei marron, come il suolo di questo vigneto. E' l'economia che ci ha dato benessere, ma che ha anche creato grandi problemi, in particolare in campo ambientale. E allora ecco perché si sta cercando una nuova prospettiva. Ad esempio, usando i colori, si parla di green economy, economia verde. Un'economia che cerca di essere maggiormente in sintonia con quelli che sono i ritmi di questo pianeta, degli ecosistemi. Oppure qualcuno ha anche proposto la blue economy. Qualche volta intesa come economia del mare, ma io qui la intendo come green economy 2.0. Che cosa vuol dire? Cercare di immaginare, di realizzare un'economia maggiormente in sintonia, anzi in simbiosi, che imita i ritmi, i modi della natura. Questi cambiamenti di colore all'economia, in certi casi si usa anche cambiare la forma dalla lineare alla circolare, hanno portato a dei benefici, a dei risultati positivi. Recentemente, per esempio, in campo ambientale, è stato ricordato che l'economia ha garantito una maggiore estensione, una maggiore numerosità di aree protette su questo pianeta. La maggior destinazione di risorse, in particolare pubbliche, per la tutela delle risorse naturali. Ha permesso di conoscere maggiormente le specie animali presenti su questa terra, ma, rovescio della medaglia, ha continuato a generare problemi. Perdite di habitat che costantemente procedono, pensate ai boschi. Un uso della chimica, in particolare in agricoltura, che in certi casi genera problemi. Oppure la perdita irreversibile di specie, l'estinzione delle specie. In altri termini, il fatto di aver ricolorato l'economia non ha risolto del tutto i problemi. Ce ne sono ancora di molti. E allora poniamoci alcune domande. Proviamo a chiederci se l'economia potrà mai immaginare se stessa come un processo che riesce ad essere a favore, insisto, sulla componente ambientale, a favore di quello che chiamiamo il capitale naturale. che è quella struttura, che è il pianeta Terra e le sue componenti, che ci fornisce un flusso di benefici che chiamiamo servizi ecosistemici, in cui è presente una forte caratterizzazione in termini di biodiversità. E allora il tema su cui porre l'attenzione può essere proprio questo. riuscirà, l'economia sta almeno iniziando a farcela, ad inserire al proprio interno, far diventare proprio questo equilibrio dei propri ritmi con quelli dell'ambiente. Ci sono delle risposte a questo quesito. e una di queste risposte vorrei proporvela qui oggi, ed è quella di cercare di misurare, di valutare l'ambiente. è una strada, è un percorso. In pratica significa riprendere proprio quella suggestione da cui sono partito, la citazione di Oscar Wilde. può essere una strada, quella di cercare di curvare, di adattare l'economia alle esigenze degli equilibri ambientali, fare in modo che l'economia tenga conto del capitale naturale e del suo valore, dei servizi ecosistemici e della biodiversità. In altre parole, possiamo immaginare che l'economia riesca a dare un prezzo a valori che prezzo non hanno e capire se e quando questo sforzo valutativo può esserci utile. è un percorso che si sta cercando, che si sta esplorando da diverso tempo. ed è molto interessante vedere che questo tipo di approccio lo ritroviamo anche in contesti, per noi che ce ne occupiamo come attività professionale nella ricerca, lo ritroviamo in contesti sorprendenti. vi voglio portare un esempio in questo senso, ed è questo. Un fumetto. Questo è un fumetto disegnato da Bill Watterson. questa striscia che vi presento oggi è stata pubblicata in Italia nel 2004, ma risale al 1995. Anche questo disegnatore in quell'anno decise di salutare i suoi personaggi. Era stato sopraffatto da loro. Per cui è una delle ultime strisce che vedono per protagonista il bambino pestifero Calvin, sei anni, e il suo adorato pupazzo di pezza, questa tigre, che per lui è vera, e il suo interlocutore. Sta passeggiando nei dintorni di casa propria e fa questo commento. si parla continuamente dello sfruttamento di nuovi territori selvaggi per lo sviluppo. E aggiunge, evidentemente comprendiamo il valore del petrolio, del legname, dei minerali, delle abitazioni, tutti elementi che hanno un prezzo perché passano per un mercato, ma non quello della bellezza incontaminata, della fauna in libertà, della solitudine, del rinnovamento spirituale. A questo punto c'è il commento di Hobbes, della sua amata tigre. Dobbiamo cominciare a mettere i prezzi sulle cose senza prezzo. E allora Calvin, di fronte a questa proposta con entusiasmo, dice già se i nostri boschi valgono un ziglione di giglione di bargiglioni, pensa a cosa vale l'Alaska. in una striscia di un fumetto il senso di questa strada che vi sto prospettando. in un certo senso poi gli economisti ambientali come anch'io in parte appunto sono hanno preso spunto, probabilmente anche ispirato questo ragionamento e lo fanno da un po' di tempo cercando proprio di dare un prezzo alle cose senza prezzo. E questo avviene a livello internazionale, avviene a livello nazionale e anche locale. l'ispirazione di Calvin ci ha portato come economisti ad affrontare questo tema. Prendo l'acqua come esempio. L'acqua è una risorsa, lo sappiamo, è qualcosa su cui si basa la vita su questo pianeta, ma è anche in grado di aiutarci, non solo noi, gli esseri viventi, a liberarci dagli scarti, liberarci dai rifiuti, pensate al problema epocale delle plastiche negli oceani, ma è anche un esempio di risorsa che è in grado di fornirci direttamente un'utilità. Immaginiamoci davanti ad un bellissimo tramonto sul mare oppure mentre osserviamo lo scorrere di questo fiume o ascoltiamo il suono e sentiamo i profumi di una cascata. Questa è un'utilità, un benessere, un beneficio che otteniamo senza la mediazione di nessuno. Ebbene, queste tre grandi categorie riassumono quelle che noi chiamiamo le funzioni economiche dell'ambiente. Sono funzioni economiche che creano, esemplificano un problema perché spesso riguardano aspetti che non passano per un mercato, che non hanno un prezzo. E allora il tentativo di soluzione. Recentemente ho letto questo titolo l'orso yogi fa meglio della finanza speculativa. Cosa vorrà mai dire? Il sistema di gestione pubblica dei parchi naturali nordamericani da anni fa un report che, fra le altre cose, dà regolarmente questa misurazione. Per ogni dollaro che il sistema americano, nordamericano, pubblico, mette nel sistema dei parchi genera un ritorno economico per il sistema statunitense di 12 dollari. Uno, 12. Un messaggio importante, un messaggio forte, usando il metro monetario con cui abbiamo familiarità. A livello nazionale un esempio. Queste sono sei aree marine protette del nostro paese. È stato misurato qual è il valore del beneficio netto generato? Il più alto è 50 milioni di euro all'anno. E anche quant'è il valore di questo beneficio netto rapportato alla superficie, agli ettari. Si arriva anche a 33 mila euro all'ettaro. Valutazione, in questo caso, in euro. Che cosa significa dare questi valori, vendere questi prodotti su un mercato? No. Significa darci un segnale chiaro, comprensibile, su cosa significherebbe se noi non facessimo queste azioni di tutela, quale sarebbe la perdita, comunicandocela con un metro familiare. Ancora un esempio locale. Siamo in un contesto di questo genere, ripetuto più volte un laboratorio con dei ragazzi e delle ragazze fra i 16 e i 22 anni, 230 persone in più sessioni abbiamo coinvolto in questo esperimento. Anche noi economisti facciamo gli esperimenti. Erano invitati ad assaggiare dei succhi di frutta, succo d'uva, le foto in alto, succo di mela, le foto in basso. In bicchierini anonimi, solo numerati. si proponeva una diversa origine della materia prima per l'uva, un succo con l'uva che derivava dal vigneto di sinistra, l'altro succo dal vigneto di destra e così per la mela e per il succo di mela. Ebbene, l'assaggio abbinato a questa informazione determinava un maggior apprezzamento dei succhi riferiti al contesto ambientale paesaggistico, un servizio ecosistemico di destra che sapevamo, l'avevamo valutato essere maggiormente gradito, ma non basta. L'assaggio del succo determinava anche una maggiore disponibilità a pagare. Se avessero potuto comprare quei succhi di frutta diversi sul mercato nel distributore automatico l'avrebbero pagato di più. Ebbene, credo sia prevedibile che il succo che veniva assaggiato era lo stesso. Era più buono, veniva anche valutato in euro di più, perché abbinato ad un contesto paesaggistico a un ambiente migliore, in questo caso più bello. La dimensione estetica richiamata da Calvin prima. ritorno ad un'immagine di colori per chiudere con una considerazione. È meglio una valutazione economica magari monetaria come quella che vi ha proposto anche imprecisa piuttosto di una valutazione nascosta con cui vengono comunque prese delle decisioni magari da noi come consumatori ma anche decisioni più ampie più importanti ma che non sono trasparenti che non si basano su valori a noi visibili chiaramente. grazie. Grazie.